Benvenuti nel salotto dell'opinione al femminile, in cui quest'oggi siamo qui con un argomento estremamente interessante, un argomento che merita la nostra opinione e la vostra attenzione. È una puntata molto particolare, è una puntata che riguarda la politica e le donne. Siamo qui con la prima donna candidata alla presidenza della regione siciliana, Rita Borsellino, una donna in politica. Buonasera. Buonasera e benvenuta. Grazie. Entriamo subito immediatamente nel merito della trasmissione, appunto il ruolo di una donna in politica. Lei in una sua dichiarazione ha detto, le donne, un valore aggiunto per la politica, la presenza delle donne nella vita politica e istituzionale è un valore imprescindibile. Come, secondo lei, le donne sono un elemento di necessità per la politica nazionale e locale? Beh, così come lo sono nella vita di tutti i giorni. La donna ha un suo ruolo ben preciso nella vita e la politica è parte importante della vita, quindi anche la donna deve avere la sua parte in politica. Il femminile è un elemento assolutamente insostituibile che deve poter avere il suo peso e dare il suo contributo alla vita. La politica quindi è vita, stiamo appena dicendo. E notoriamente la politica dovrebbe perseguire il bene comune. Certamente. Mentre da un punto di vista popolare, molte volte la politica viene vista come una sorta di salvagente per trovare il proprio posto di lavoro, viene vista per un soddisfacimento dei propri bisogni, dei bisogni personali. Lei, che effettivamente è una forte espressione della società civile, per lei appunto, che cos'è la politica? Per me la politica è servizio e mettere le proprie capacità al servizio del bene comune, al servizio degli altri e così l'ho sempre intesa. E per me è stato sempre un grande dolore, uso proprio questo termine, sentire soprattutto i giovani dire non voglio interessarmi di politica perché la politica è una cosa sporca. Allora questo mi ha fatto capire proprio come si sia stravolto, soprattutto in questi ultimi anni, il senso della politica. Non più un servizio ma addirittura una cosa sporca da cui prendere le distanze. Allora credo che ci sia bisogno proprio di ristabilire gli equilibri e i termini e riportare la politica all'idea di servizio. In che modo possiamo, secondo lei, poter risolvere? Rimettendola al servizio dei cittadini. Dicevi bene, la politica in quest'ultimo periodo, soprattutto in questi ultimi anni, è diventato tutt'altro. È diventato un interesse personale, è diventato un centro di potere, è diventato un modo di arricchirsi o comunque di acquisire prestigio, di poter manovrare situazioni che con il bene comune poco avevano. E così veniva percepita dalla gente. Allora riportarla al suo ruolo fondamentale, cioè servizio alla collettività. Vorrei prendere con lei anche un altro argomento, vorrei parlare un po' del concetto di giustizia. La giustizia in Sicilia ha sempre avuto grosse difficoltà, non lo sappiamo, ad affermarsi. Forse anche perché in determinati periodi storici comunque lo Stato non è stato presente, è stato un po' carente. E questo ovviamente ha favorito il determinarsi di un processo attraverso il quale il vero potere non è stato lo Stato, ma la mafia. Molte volte, soprattutto. A suo parare, che periodo storico sta vivendo la Sicilia? Ma questo è un periodo difficilissimo e tragico per certi versi. Io più di una volta sono stata portata a dire che il periodo che sta vivendo la Sicilia è addirittura peggiore di quello vissuto nel 92 nel periodo delle stragi. E mi sento di poterlo confermare, perché se è vero che grazie a questa sorta di Pax mafiosa istituita dall'avvento di Bernardo Provenzano, la mafia ha deciso di non uccidere più. Lo ha fatto non perché improvvisamente è diventata buona o è diventata una mafia positiva, ma lo ha fatto semplicemente per non attirare troppo l'attenzione repressiva su di sé, visto che proprio in quel periodo la repressione era stata molto forte e aveva portato delle conseguenze molto negative per la mafia stessa. Allora questa mafia che non uccide, questa mafia che in qualche modo ha fatto attenuare l'attenzione su di sé è una mafia forte, è una mafia molto pervasiva, è una mafia che controlla tutto e tutti e questo lontano dall'attenzione sia dei mezzi di comunicazione che della cittadinanza, delle persone, purtroppo anche delle istituzioni e quindi prospera. Ecco perché ritengo che questo periodo sia peggiore di quello. Allora c'era una magistratura forte che era riuscita a prendere in maniera decisa in mano la lotta contro la mafia, aveva ottenuto dei risultati e la mafia prima con l'uccisione, con le stragi e quindi l'uccisione dei magistrati e poi con questa sorta di silenzio si è guadagnata una, come dire, non impunità, non vorrei dire questo, perché la magistratura e le forze dell'ordine hanno continuato a occuparsene, però sempre con maggiore difficoltà perché le sono stati tolti i mezzi per poter operare effettivamente contro la mafia. E' un'altra situazione in cui, come dicevi prima, lì dove lo Stato diventa carente, lì dove lo Stato è meno attento, la mafia invade il territorio e lo controlla con più forza. In un articolo di qualche giorno fa il giornalista Riccardo Orioles ha scritto della terza generazione antimafia, parlando pure e riferendosi anche ad associazioni come Libera, di cui lei è il vicepresidente, che lavorano ovviamente quotidianamente con i beni confiscati dalla mafia. Lei crede in una crescita di questa terza generazione antimafia? Io credo a questa terza generazione antimafia, mi piace questa generazione, però come una continuazione, in continuità con le altre due generazioni, non con delle fasi di interruzioni. Come in tutte le fasi di evoluzione e di crescita c'è sempre magari un periodo meno evidente, meno appariscente, però non ci sono mai state interruzioni. Libera di cui io sono stata, prima vicepresidente e poi presidente onoraria, adesso mi sono dimessa proprio per questa mia attività politica, per esempio raccoglie in sé, non nasce dal nulla, ma raccoglie in sé generazioni, e dico generazioni perché di adulti, di giovani, e ha educato anche generazioni di bambini che si sono occupati di mafia, ma a partire dall'esperienza precedente, mai cominciando da zero. Noi siamo eredi in qualche modo delle prime lotte dei contadini contro la mafia, sono il nostro patrimonio culturale, sono il nostro patrimonio storico, sono il nostro patrimonio di giustizia, al quale facciamo appello ogni volta che la lotta per motivi anche contingenti, per situazioni che si verificano, la lotta diventa più forte e più appariscente. Ma non c'è mai stata un'interruzione completa, ci sono state attenuazioni o comunque momenti in cui è stata meno visibile. Lei mi diceva prima appunto, diceva, si parte comunque dai giovani, dai bambini, dai ragazzi, e in questo modo si può combattere la mafia soprattutto, giusto? Essendo la mafia non soltanto un fenomeno criminale, ma anche un fenomeno culturale, è tutte e due cose, non è l'uno l'altro. E allora se è vero che è un fenomeno culturale radicato anche nella realtà della Sicilia, bisogna, un fenomeno culturale lo si combatte con un'altra cultura, e quindi bisogna necessariamente partire dai più giovani. Io ero abituata a dire che ai bambini bisogna dare latte e giustizia, latte e legalità, devono imparare subito che cosa sono le regole, perché bisogna osservarle. Il fatto che osservare le regole e rispettarle conviene a tutti e che non è qualcosa fatta soltanto come un privilegio per qualcun altro. Anzi, le regole e le leggi servono per tutelare i più fragili, i più deboli, cominciando con questa cultura, facendo comprendere come sia importante che ci siano le regole e che siano rispettate, i bambini cominceranno a capire quali devono essere i comportamenti e si comporteranno di conseguenza. Questo però se avranno davanti degli esempi credibili da parte degli adulti, perché altrimenti ci sarà un contrasto. E questo contrasto, devo dire, in questi 15 anni c'è stato ed è stato molto forte, perché i bambini che venivano educati in maniera forte, dalla scuola soprattutto, a guardare la mafia come un fatto negativo, ed era forse la prima volta che avveniva in maniera così forte, e che sono riusciti a assumere questa cultura, vivevano però una sorta di contraddizione molto forte all'interno di una famiglia fatta di adulti che invece avevano una concezione antica. Ora si stanno un po' ristabilendo gli equilibri e sicuramente ce ne accorgiamo anche dai questionari, per esempio distribuiti nelle scuole, oggi è molto più raro trovare un bambino o comunque un ragazzo che ci dica che comunque in qualche modo la mafia è un fatto positivo. Si è acquisita la conoscenza della mafia e la mafia oggi viene giudicata un fatto negativo. Poi si può scegliere se stare da una parte o dall'altra, per convenienze più che altro, ma non più per convinzioni quasi etiche, così come accadeva prima. Prima in un certo senso i bambini quando vedevano un mafioso comunque in tv, vedevano quei film un po', si sentivano affascinati. Avevano una sorta di ammirazione. Oggi abbiamo degli esempi molto belli e importanti, e sono degli esempi concreti, ho letto i verbali anche delle deposizioni, in cui figli di collaboratori di giustizia si rendono conto di essere isolati, messi da parte e spesso derisi da parte degli altri bambini, che hanno capito che la mafia è un valore negativo e affermano il loro valore positivo. Vorrei parlare anche un po' di economia, economia globale. Siamo in un periodo infatti in cui l'economia globale comunque privilegia le nazioni ad alta tecnologia e a mano d'opera buon mercato. La Sicilia ha sempre subito il fascino delle grandi imprese e dei suoi posti di lavoro, però non ha mai voluto rinunciare allo stesso modo all'assistenzialismo statale. Lei come pensa che la Sicilia possa superare questo ritardo e inserirsi in un contesto di economia globale? Bisogna vedere di quale Sicilia si parla, di quale siciliani si parla, perché purtroppo quello di cui lei parla è stata una forma di malgoverno, in qualche modo, che è stata imposta ai siciliani che così l'hanno visto come l'unico modo. Per cui poter avere anche dei privilegi o comunque per poter tirare avanti. Quando si arrivava alla massima aspirazione era il posto di lavoro fisso, possibilmente pubblico, che ti dava la possibilità di tirare avanti e di stare lì tranquillo. Non ti interessava tanto capire da dove arrivava, perché arrivava, e se effettivamente serviva allo sviluppo di questa terra oppure no. Oggi sicuramente i giovani guardano in maniera diversa, sia allo sviluppo che al futuro. E purtroppo questo è un periodo in cui il lavoro è poco, in cui troppo spesso sono delle forme di lavoro che poco hanno a che vedere con lo sviluppo, in un momento in cui forse i più giovani invece si rendono conto con maggiore chiarezza di che cosa significa un lavoro che porti davvero sviluppo. Quindi oggi c'è questa grande contraddizione e questo grande sviluppo. Tutto questo dovuto al fatto che non abbiamo avuto dei governi che hanno pensato allo sviluppo della Sicilia, ma che hanno pensato di elargire posti di lavoro a destra e a manca e di che tipo di lavoro, soltanto per farsi delle clientele, per avere dei consensi immediati. Non hanno saputo o non hanno voluto guardare un passo più avanti e oggi ci troviamo nella situazione in cui non c'è più né lavoro né sviluppo. Quindi non sappiamo da che parte stare. Dobbiamo cominciare dalla parte dello sviluppo, perché continuare a creare posti di lavoro di questo genere non serve a nessuno né a chi li riceve né a chi li dà e allora dobbiamo cominciare a vedere veramente come permettere a questa terra di svilupparsi a partire da che e da che cosa per creare un lavoro vero che possa ancora una volta innescare fenomeni di sviluppo. Tra l'altro la Sicilia comunque per il suo ambiente, per la sua, comunque ha anche un punto strategico, si trova in un punto strategico. La Sicilia ha grandissime potenzialità, non solo per, come dicevi tu, per la posizione in cui si trova, ma soprattutto per le prospettive che in questo momento si stanno aprendo. Quindi la Sicilia ha una posizione geografica invidiabile, quella gliel'ha data il Padre Eterno. Si trova al centro del Mediterraneo, si trova alla fine di questo prolungamento naturale dell'Europa che è l'Italia, quasi un molo nel Mediterraneo, un Mediterraneo che in questi anni diventerà di nuovo centro importantissimo di scambi, scambi economici, scambi di merci, scambi di persone, scambi di cultura. E quindi si trova a essere in una posizione privilegiata, con una situazione privilegiata per quelle che sono le sue potenzialità. E quindi dicevi il clima, dicevi le bellezze naturali, parliamo dei beni culturali, dei beni archeologici, della possibilità proprio per il clima e la posizione di una agricoltura di qualità, un mare pescoso come il Mediterraneo. Quindi ha grandissime potenzialità. Queste potenzialità, io uso un termine sempre un po' usandolo al contrario, sono state sempre sfruttate, cioè sfruttate in senso negativo. Ma non sono state mai, infatti, non sono mai state né utilizzate veramente per creare sviluppo nella maniera giusta, né tantomeno potenziate per poter essere volano di economia. Oggi ci troviamo in una situazione in cui tutto questo è indispensabile, anche perché si verifica un momento storico, mondiale, vorrei dire economico, importantissimo, in cui nel 2010, con l'apertura dell'area del libero scambio, tutto questi doti, qualità, opportunità della Sicilia diventano importantissimi. Perché la Sicilia si trova al centro di tutto questo, ma si trova al centro di tutto questo assolutamente impreparata. Se noi pensiamo che non abbiamo porti attrezzati nella maniera giusta per poter ricevere i flussi delle grandi navi che arriveranno dai nuovi mercati che si aprono e andranno verso l'Europa e viceversa. Quindi non abbiamo porti, non abbiamo interporti, abbiamo porti i cui fondali non sono sufficientemente profondi per poter accogliere queste navi. Non ci sono interporti, è tutto frammentato. Ma poi anche una produttività della Sicilia che può essere sviluppata, può diventare di qualità e quindi incentivando le ricerche, incentivando anche la manodopera specializzata per fare tutto questo. Poi non ha la possibilità neppure di spostarsi perché non ci sono strade, perché la ferrovia è un solo binario, perché c'è una situazione di reti, di trasporti e di comunicazioni inesistente praticamente. E quindi anche quando avessimo i porti non potremmo neanche raggiungerli per poi poter andare altrove. Allora ci vuole proprio questa opera capillare di infrastrutture che serva proprio a valorizzare quello che intanto in Sicilia si produce e che deve andare fuori come un biglietto da visita di una Sicilia diversa che poi possa attirare i flussi di ritorno anche del turismo, anche delle persone e delle culture per uno scambio di cui la Sicilia non potrebbe far altro che avvantaggiarsi. Lo sviluppo, il progetto di sviluppo per la Sicilia deve passare obbligatoriamente da lì e passa da lì e deve passare da lì anche perché abbiamo l'unica, l'ultima opportunità che ci viene fornita dall'Europa. Che farà quella del 2010. No, nel 2010 si aprono le aree di libero scambio ma per arrivare al 2010 preparati noi avremo dal 2006 i fondi europei che arrivano un'altra volta perché siccome i primi non li hanno saputi spendere, li hanno sperperati ancora per clientele o addirittura senza saperli spendere perché non hanno creato sviluppo, l'Europa ci dice che siamo ancora nell'obiettivo 1, che ci siamo alla pari di paesi che stanno entrando adesso in Europa e hanno bisogno di essere aiutati, parlo di Cipro, della Lituania, c'è anche la Sicilia che fa parte di quella che dovrebbe essere, era la sesta potenza, sesta quarta potenza economica mondiale e la Sicilia si trova in questa condizione sotto sviluppo. I fondi europei devono servire ad arrivare al 2010 attrezzati nella maniera giusta. Quindi c'è questa congiuntura particolare che deve essere sfruttata obbligatoriamente al massimo perché persa questa non ce ne sarà noi. Non ci sono altre possibilità. Siamo in campagna elettorale diciamo in questo periodo, la campagna elettorale solitamente dei politici di mestiere viene caratterizzata da molti stereotipi, quali per esempio la ricerca spasmodica dell'elettore, cocktail, cene, vari tipi di pubblicità. Questa è solitamente quella che è la campagna elettorale di un appunto politico di razza, se così lo vogliamo chiamare. La politica invece, la campagna elettorale impostata e fatta da Rita Borsellino com'è? Beh io decisamente sono fuori razza, non sono di razza, insomma non saprei perché la mia campagna elettorale somiglia un po', anzi somiglia tanto a quello che ho sempre fatto, cioè quella di incontrare sì le persone perché lo faccio ormai da 13 anni, quella di visitare i luoghi di conoscere i territori, di immergermi veramente nei territori per viverne non solo i problemi ma soprattutto per scoprirne le potenzialità e quindi la campagna elettorale di Rita Borsellino si chiama Cantieri, che poi è un modo nuovo di fare i programmi perché girare soltanto alla ricerca del voto in maniera vuota o in maniera così imponderabile vorrei dire mi sembra una cosa che non stia da nessuna parte, io continuo a incontrare le persone come l'ho sempre fatto ma su fatti concreti, su chiederci cosa c'è che non va, che cosa c'è che invece va, quali sono le potenzialità, proviamo a confrontare queste due cose e tiriamo fuori la soluzione, sempre così è stato, prima facevamo progetti con cui operavamo sui territori e oggi facciamo un programma, un programma di governo di questa terra che parte appunto dai territori, parte dalle persone, parte dalle esigenze, si affianca agli esperti all'organizzazione dei partiti, all'organizzazione dei sindacati, di una società impegnata che ha sempre operato sul territorio ed elabora un programma che poi si cala nel territorio e diventa operativo, quindi la campagna elettorale di Rita Borsellino si chiama Cantieri per il programma. Io vorrei concludere con una domanda che è un po' particolare, va un po' fuori diciamo da… Non importa. Solitamente la vita di un essere umano è sempre un mistero, noi da giovani abbiamo sempre dei sogni, viviamo il presente, sicuramente viviamo il proprio presente sperando di avere un futuro migliore. Cosa è stata, cosa è e cosa sarà Rita Borsellino? Ma vedi, tu dicevi i giovani hanno la capacità di sognare, io forse ho un privilegio, quella di… la capacità di sognare nonostante abbia 60 anni. Nella mia vita ho… questa è un po' vorrei definirla la terza, la quarta fase, non saprei. Ogni volta ho ricominciato da capo. Ho ricominciato da capo avvalendomi però dell'esperienza importantissima di un passato sempre vissuto in maniera molto forte e molto consapevole, anche quando si è trattato di un passato difficile, doloroso, anche quando questo passaggio è costato ed è costato caro. Allora non faccio tanto riferimento alla mia infanzia, alla mia giovinezza che sono state, così nel bene e nel male, un po' quelle di tutti quanti. Ma sicuramente invece ha qualcosa che è avvenuto nella mia maturità. Nel 1992 io ho già madre di tre figli abbastanza grandi, avevano poco più di 20 anni, farmacista, con la mia esperienza, con la mia vita, pensavo di aver raggiunto già un equilibrio e che questo si potesse mantenere fino ad arrivare poi a una vecchiaia che ormai cominciava ad essere abbastanza vicina. E invece la mia vita è cambiata profondamente, la mia vita è cambiata a partire da un fatto dolorosissimo davanti al quale non mi sono voluta arrendere, ma davanti al quale appunto ho voluto trovare ancora una volta la capacità di sognare un futuro diverso. Ma sognare soltanto serve a poco, se poi il sogno non si fa di tutto per realizzarlo, spesso può diventare un incubo. Allora io ho voluto sognare un futuro che potesse essere diverso, soprattutto per le nuove generazioni, perché è sempre importante così sognare per le nuove generazioni un futuro diverso e migliore da quelle che sono passate, ma questo sogno ho voluto realizzarlo. Ho pensato che si potesse realizzare soltanto proprio insieme ai giovani. Allora ho cominciato a portare a loro questo passaggio di una, questo messaggio di una vita intensa, forte, interessante, anche dolorosa, che però potesse servire per appunto creare un futuro diverso. E questo ho fatto per 14 anni. È stato bellissimo realizzare questo sogno perché lo vedevo realizzarsi. Tanto si andava realizzando che a un certo punto di questo sogno, quando pensavo in qualche modo di poterlo mettere nel cassetto perché già camminava un po' per i fatti suoi, è cominciata una fase diversa della mia vita. È cominciata una fase in cui ho guardato avanti e ho detto forse c'è bisogno di fare ancora un altro passo. Un altro passo completamente diverso da quello che avevo fatto fino allora, ma nello stesso tempo che da quello prendeva origine e che non gli somigliava, ma era una conseguenza logica di quello che era stato fino allora. E allora l'impegno in politica, perché tutto quello che fino a quel momento avevo realizzato all'interno della società con la società organizzata, potessi portarlo a un'esperienza di governo che permettesse a chi effettivamente pensava in modo diverso, voleva realizzare un sogno per poter anche aiutarlo ad avere i mezzi per poterlo fare. Allora insieme, dalla parte del governo e dalla parte del cittadino, per un percorso comune. Questo significa che quando a volte si passano dei periodi brutti, quando accadono delle cose tristi, non bisogna chiudersi in se stessi, bisogna cercare di trasmettere qualcosa. Ma guarda, io ho avuto questo privilegio, quello di sapere utilizzare un'esperienza dolorosissima per risollevare la testa e per imparare a fare delle cose che fino a quel momento non avevo mai fatto. Se mi fossi chiusa a vivere questo dolore per quello che era, cioè come il punto finale di una fase della vita, probabilmente sarebbe stato peggio per me, ma sarebbe stato anche peggio per tanti altri che insieme a me questo percorso hanno fatto. L'averlo messo invece a disposizione non solo degli altri, ma anche di un percorso positivo, l'avere stretto i denti e dire non si può dargli la vinta, non si può dargli la vinta a chi pensa con la violenza e con la sopraffazione di poter cambiare il corso della vita, interrompere un sogno, appunto, un sogno positivo. Questo secondo me è stato per me importante e determinante. Io oggi sono una persona serena e soprattutto una persona che ha ancora la capacità di sognare pensando di poter realizzare i sogni. E già questa è una vittoria. Ah, sicuramente sì. La ringrazio veramente per essere stata con noi. Bene, dal Salotto dell'Opinione Femminile è tutto. Vi ringrazio per averci seguito. Alla prossima. Mi intervistavo. Mentre morivo e mi chiedeva lei cosa prova e io sudavo e non parlavo, mi nervosivo e balbettavo e poi pensavo sto perdendo l'occasione di avere un'intervista proprio porta a porta cosa dirò come farò e poi morivo.